Pronto, sono io, tra Pietro Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata, con lo scapperamento a destra. Lo credo che non capisci, fernetico, al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli per favore. Cosa fai, schifoso? Ma come che fai? Lo so, lavoro, no? E lasciami lavorare. Dico la mia...